Chi per tenere a bada il vortice play-out, chi per tentare un aggancio ai play-off, Delfino Flaccoporto e Penne alla ricerca di una vittoria che darebbe tanto ai fini della classifica. Fischia Danilo di Vasto in un pomeriggio variabile, ma piuttosto fresco. Prima nota di cronaca è per Raffaele Pagano, falso, raccoglie, senza patemi. Il primo tempo è a favore del Delfino Flaccoporto, Bonate in tribuna per squalifica, ma guida i suoi nelle sortite offensive. Alla prima, palla-gol, ci pensa Ligoschi ad inserirsi coi tempi giusti e finalizzare l'assist di Marzucco. 1-0 per il Delfino e dodicesimo, centro in campionato per l'attaccante che va a festeggiare con i compagni. La risposta del Penne tarda ad arrivare, Marzucco si mette in proprio, la mira non è delle migliori. Prende la porta invece Ligoschi, ma d'amico e attento a sventare la minaccia assieme alla difesa. Il primo tempo è tutto qui, nella ripresa si giocherà anche meno, ma la squadra di mister Pavone rientra comunque con un altro atteggiamento. Proteste dopo tre minuti per questo atterramento di Coletta in aria. Si gioca per il direttore di gara, spiovente di Cacciatore, Casimirri arriva prima di tutti, falso, comodamente appoggia a terra. Alberico prova dall'altra parte con una girata complicatissima, ma è un'azione estemporanea. Sulla destra sfonda Coletta, questa volta falso, ci mette una pezza con un ottimo intervento. Dialogano Cacciatore e Di Ruocco che devono fare i conti con la chiusura provvidenziale di Giannini. La partita finisce praticamente con la conclusione di Cacciatore a lato. Secondo tempo spezzato dai ripetuti fischi arbitrali. Si contano otto minuti di recupero. Alla fine vince il Delfino Flacco Porto che fa valere il fattore casalingue e si avvicina all'obiettivo stagionale. Il penne perde probabilmente l'ultimo treno per la corsa playoff. Chi ci rimette davvero è però lo sport con alcuni pesanti tafferugli avvenuti dopo il triplice fischio. Mister Pavone, indipendentemente da quello che è successo sul campo, è anche brutto vedere quello che è successo fuori? No, ma è una brutta pagina di sport, di un calcio che non mi appartiene, di un non calcio, di un diostruzionismo e di tutto quello che abbiamo subito oggi con le offese a fine partita. Per me è una brutta pagina di calcio. Io non sono abituato a fare queste cose, non ho mai protestato. Per me il calcio è giocato. Oggi non abbiamo giocato a calcio, quindi loro hanno fatto di tutto. Potranno raggiungere la salvezza, quello che vogliono. E' veramente una brutta pagina di calcio. Non sono il primo che mi lamenta, tutti quelli che vengono qua hanno tutti gli stessi problemi perché loro non fanno altro che fare ostruzionismo e non fa bene al bel calcio. Tutto questo mi spiace, per il resto poi la gara non ha senso. Loro sono riusciti ad andare in gol e poi hanno fatto di tutto per non giocarla. Jasak Likowski, dodicesimo gol in campionato, forse uno dei più pesanti di questa stagione. Sì, penso proprio di sì, penso che sia stato uno dei gol più importanti finora in questo campionato perché ci ha dato tre punti importantissimi contro una squadra davvero forte che ci ha dato del filo da torcere fino all'ultimo, però siamo riusciti a difenderci bene e abbiamo portato a casa, ripeto, tre punti veramente troppo importanti. Adesso guardiamo già alla partita successiva che ci aspetta un'altra battaglia. Non stiamo troppo tempo a pensare a questa. Ci siamo goduti giusto i cinque minuti, la vittoria dentro lo spogliatoio e stiamo già preparando la partita di domenica prossima.